Ministro Lagatelli, a Palermo è anche un giro in Sicilia per confrontarsi con le realtà legate al mondo della famiglia, al mondo delle disabilità. Un incontro pubblico a Palermo con le associazioni, ma anche una visita all'istituto minorile, al carcere Malaspina. Cosa ha trovato in questa struttura? Ho trovato intanto tanto impegno, tanto valore nelle attività che vengono svolte e ho avuto l'opportunità di incontrare i ragazzi e di parlargli direttamente. Sinceramente questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere e credo che possa essere servita anche ai ragazzi, perché un incontro comunque con le istituzioni è un incontro anche responsabilizzante rispetto al loro percorso. E quindi sono molto soddisfatta di quello che ho visto e credo che tutta la Sicilia, adesso in particolare oggi Palermo, sarà una grande, piacevole sorpresa per tanti aspetti, ma certamente adesso attendo di incontrare le famiglie e le associazioni per capire anche quali siano i reali bisogni e le situazioni più impellenti. Nel corso di questi 14 mesi il governo, anche da quando c'è lei, ministro della famiglia, ha attuato una serie di provvedimenti per la famiglia. Vuole, in pochi secondi, cercare di riassumere per i nostri elettori? Abbiamo aumentato i fondi a disposizione, si sono rese più flessibili alcune misure, poi le collaborazioni con le regioni sono importanti, anche se qui in Sicilia so che è un po' più difficile passare attraverso la regione per poter far arrivare i fondi così come sono stati stanziati direttamente ai cittadini. Posso anche dire che proprio oggi, ho mandato il comunicato stampa, non l'ho ancora annunciato, colgo l'occasione per farlo adesso, domani mattina verrà pubblicato un bando di welfare aziendale, proprio per stimolare le aziende, anche grandi, a fare delle convenzioni, volendo anche con le piccole, ma soprattutto a rendere flessibili gli orari di lavoro per le mamme, spazi a disposizione per i bimbi, per rendere più conciliante la possibilità di lavorare e di avere una famiglia. Sono 74 milioni di euro e verrà pubblicato domani mattina. Lei è anche la delega sulle disabilità, le persone con disabilità ormai da anni, specialmente qui in Sicilia, lamentano sempre il ritardo con il quale vengono attivati i servizi a favore di queste persone. In Sicilia sono state anche diverse proteste, ragazzi che si sono incatenati, ecco, cosa possiamo dire a queste famiglie? E hanno ragione perché per troppi anni, peraltro, il pensiero del governo è andato ad altre politiche, non certo a quelle sulla disabilità. Stiamo cercando di aumentare i fondi a disposizione e di portare il nuovo governo, quello che è in carica in questo momento e spero anche quello del futuro, a riflettere sul ruolo della famiglia e delle persone fragili, perché si tratta di milioni di persone che devono essere ascoltate e hanno diritto ad avere una vita più dignitosa. Io qualche settimana fa sono stata dal Ministro Tria proprio per chiedere un aumento significativo degli assegni di invalidità, perché non è possibile, non è dignitoso con 280 euro pensare che qualcuno che ha dei limiti, che possono essere fisici, sensoriali, delle difficoltà, possa riuscire a vivere dignitosamente. Cosa le ha risposto il Ministro Tria per curiosità? La risposta è sempre di collaborazione, posso dire che tutte le persone che sento quando si parla di disabilità, di famiglia, diamo una mano. Poi però nel concreto la svolta non può essere 30 euro in più su questi assegni, deve essere ovviamente una svolta importante, altrimenti è una presa in giro. Lei adesso ha parlato del Governo, ha detto se il Governo dovesse tenere o comunque anche il Governo successivo. Sono ore febbrili di trattative tra il Movimento 5 Stelle e il PD, voi avete comunque riaperto al Movimento 5 Stelle nonostante i tanti no di cui il Vice Premier Salvini ha parlato per dare il via a questa crisi. Qualcosa è cambiato? I tanti no innanzitutto erano dettati da questi incontri, probabilmente fino a pochi giorni fa, segreti di trattative tra una forza di maggioranza e il PD. Certamente la nostra intenzione non è di riconsegnare il Paese nelle mani di Renzi che è stato cacciato dal popolo e ci auguriamo, lasciando aperta la porta ad un'eventuale sistemazione delle riforme in corso e anche della legge di bilancio, di poter andare comunque a votare il prima possibile. Non so se hai notato che uno dei motivi principali della crisi, quindi il voto sulla mozione relativa alla TAV, è assente in questi giorni dal dibattito, dalle trattative tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Loro staranno facendo ovviamente le loro valutazioni, i loro conti, le loro riflessioni. Io posso solo dire che la Lega non ha intenzione di sedersi al tavolo con la sinistra, né adesso né mai, e che comunque siamo a disposizione del popolo, della gente che ci ha votato, che crede nelle politiche che anche Matteo Salvini ha portato all'attenzione di tutti con grande coraggio, ha dato una svolta al Paese e soprattutto siamo pronti a tutto. Noi siamo pronti a votare anche domani e altrimenti siamo pronti a sederci a un tavolo, a fare le riflessioni dovute, ma la parola deve tornare il prima possibile al popolo. E se dovesse nascere questo governo PD 5 Stelle che farete? Seduti all'opposizione insorgeremo tra i primi rispetto anche alla cittadinanza che immagino che non sarà molto contenta. Mi dispiace anche per i colleghi dei 5 Stelle nel caso che hanno sempre creduto magari nella democrazia, nella loro voce di popolo da ascoltare e che invece si potrebbero ritrovare con un governo fatto su misura a palazzo. Peraltro un governo in cui sembra che personaggi che sembravano essersi allontanati dalla scena politica, quantomeno dal governo, come Maria Elena Boschi, Davide Faraone, lo dico perché Palermitano o altri, insomma Renziani Doc, potrebbero ritornare dalla finestra, usciti dalla porta. Sì, peraltro il partito possiamo dire di Bibiano, quindi diciamo un partito già cacciato a suo tempo dalla gente, senza vergogna, che adesso anche ha difficoltà per esempio a rendersi conto di una situazione così drammatica come quella che si è venuta a creare in Emilia Romagna e che è anche purtroppo causata dalla mala politica.